Attenzioni concentrate su Mbappé alla vigilia, a Serie A tarrappica nelle ultime tre gare. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. C'è la tua sera di grande festa sulle tribune, i tifosi hanno risposto davvero in massa all'appello fatto dagli allenatori e il colpo d'occhio è bellissimo. Piero Gipardo pronto a raccontare le emozioni del match assieme a Lele Adani. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A, match tra Bologna e Milan. Partita che promette di tenerci incollati lo schermo fino all'ultimo, sarà battaglia vera ragazzi in campo e tra due squadre che sono certo faranno di tutto per portare a casa la vittoria. Possesso è regalato, ha spazio davanti a sé. 1-0, è arrivato il primo gol del match. Ecco il gol che ci viene riproposto da un'altra angolazione. Ha scagliato il pallone in porta con una conclusione di rara potenza e bellezza. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Il tiro di Holland si era coordinata bene e è mancata un po' di precisione. Subito in diretta perché ha cambiato qualcosa nel match della Juve. Prima rete del match per la Juventus. Ha segnato Federico Chiesa. Buon sangue non mente. Sulla conclusione c'è stato un tocco decisivo che abbia fatto il portiere. Buon sangue non mente. in letterario non mente. Per l'attività. Buon sangue그 Sanidore. Buon sangue! Buon sangue! Buon sangue! Buon sangue! Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Punteggio che è cambiato, ora conducono per due reti a zero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.